Si è svolta a San Menanzo dal 16 al 20 settembre la seconda edizione di Architettura in Natura, meeting che già nel suo nome richiama il nobile intento di rivalutare il paesaggio urbano e non solo. Protagonista di questa edizione è stato il Parco Vulcanologico di San Menanzo. Il professor Achille Maria Eppolito, insieme agli ospiti del convegno e agli amministratori del Comune Ternano, ci spiegano il perché di queste cinque giornate di studio. Ma diciamo Architettura in Natura è la sintesi di un discorso che noi teniamo alla base che è quella della qualità del paesaggio. Noi teniamo moltissimo a far capire che il paesaggio non è solo quello naturale, sicuramente qui in Umbria quello naturale è di grande valore e prestigio, ma anche gli interventi architettonici devono essere di qualità proprio per esaltare ulteriormente le qualità del paesaggio naturale. Questo rapporto Architettura in Natura è alla base del premio dedicato a Simonetta Bastelli, che è un premio organizzato su tre aspetti. Un convegno internazionale a San Venanzo, un premio dove quest'anno abbiamo avuto quasi 100 partecipanti, anche con presenze straniere, e un workshop, che intendiamo per workshop. Un tema che ci ha dato l'amministrazione comunale viene elaborato qui in questi giorni da gruppi di cinque, sono cinque gruppi, di cinque dottori di ricerca, giovani, paesaggisti, architetti, che lavorano coordinati da tutor, anche loro, alcuni sono stranieri, e quindi Poggio Aquilone-San Venanzo sta diventando un centro di ricerca sperimentale, significativo e importante per l'architettura del paesaggio, per questo rapporto Architettura in Natura. Samuole Codetti è uno degli assessori riconfermato del Comune di San Venanzo. Architettura in Natura è la seconda edizione, per San Venanzo che investimento è? Questa manifestazione di Architettura in Natura, giunta quest'anno alla seconda edizione, dà grande lustro e visibilità al nostro territorio. Aumenta fortemente la consapevolezza per gli abitanti del territorio di San Venanzo e del territorio del Peglia di vivere in uno spazio, di vivere dei luoghi che sono inseriti in un contesto di bellezza, in un contesto ambientale e paesaggistico di grande rilievo. Quindi gli abitanti di San Venanzo devono rendersi sempre più consapevoli di questa importanza e delle potenzialità che il territorio a livello ambientale e paesaggistico offre e di cui la natura ci ha regalato. È importantissimo per esempio il tema del workshop di quest'anno che è il parco vulcanologico che è una delle strutture di cui San Venanzo può vantarsi perché è un unicum in tutto il territorio regionale. Speriamo che i ragazzi che stanno lavorando in queste giornate di studio e di approfondimento ci diano strumenti operativi e concreti per poi operare concretamente sul territorio. La prima cosa che vi dico è che sono rimasto davvero stupito della grande partecipazione che il sindaco ha messo in questi giorni e questo aiuta i gruppi di lavoro perché gli dà senso, gli dà anche senso politico. Abbiamo siglato un patto con il sindaco e il patto è quello di arrivare alla giornata conclusiva con un documento che lui possa avere e tenere nelle sue mani per cominciare un percorso che è un percorso politico, è anche un percorso culturale. A San Venanzo si arriva e si trova un cartello con il titolo Parco Vulcanologico. Questo parco riguarda circa 5.000 metri quadri di quei 180 ettari che invece è il parco che il sindaco ha in mente. Allora se questo workshop riuscirà a sciogliere questo equivoco e a dare la giusta taglia al progetto del Parco Vulcanologico, beh io credo che abbiamo fatto il nostro dovere. L'occasione del Parco Vulcanologico su cui stiamo lavorando in questi giorni è proprio un'occasione di incontro molto importante, secondo me potenziale, fra una popolazione, una cittadinanza molto attenta, curiosa che si è aperta a questa esperienza e il mondo esterno che viene, che visita, che conosce San Venanzo, conosce i suoi dintorni. Quindi questo dialogo direi che è la chiave di quello che dovrebbe essere questo parco di cui stiamo parlando, ma che di fatto non c'è ancora. Che valore ha per il Comune di San Venanzo e per il suo territorio questo evento che vuol coniugare architettura e natura? Sì, credo che abbia un valore inestimabile perché riusciamo in cinque giorni a promuovere il nostro territorio in ambienti vero accademici e scientifici come state vedendo in questo workshop, però li veicoliamo a un pubblico molto più vasto fatto di ordini di architetti, ordini di ingegneri, fatto su riviste specializzate e poi sul territorio circostante chiaramente. Quindi è un momento molto importante, credo dal punto di vista culturale e scientifico ma poi anche speriamo dal punto di vista fattuale perché vorremmo riuscire a apprendere meglio questo workshop come idea e progetto per poi realizzarlo nel corso di questo quinquennio che abbiamo davanti. Quindi è un'importante vetrina ma anche un importante appuntamento per noi amministratori per cercare di realizzare quello che ci viene suggerito come idea progettuale. Questo progetto, questa idea, queste iniziative possono essere esportate perlomeno nei comuni limitrofi secondo lei? Auguriamocelo perché chiaramente questa è la seconda edizione di Attura della Natura è nata credo con idea del professor Ippolito presentata a San Milanzo ma può certamente avere una valenza più ampia e potremo lavorare con i comuni limitrofi marciando in primo luogo per le prossime edizioni per fare un'edizione più grande probabilmente con più comuni insomma, senz'altro potremo lavorarci.